Senza enfatizzare ma con prudenza, possiamo dire che anche nel 2015 il tema dell'arte e della cultura sarà al centro delle attività di Fondazione Cappi. Dico senza enfatizzare perché riprendo quelle che sono state le indicazioni dei giorni scorsi quando la Fondazione ha presentato l'attività del 2015 durante le quali sono state confermate le disponibilità per una complessiva attività filantropica per 150 milioni di euro. All'interno di questo ovviamente c'è l'area arte e cultura che è un pilastro importante e di cui siamo qui a parlare con Cristina Chiavarino che è la direttrice di questa area e che ci aiuterà oggi a capire e a comprendere meglio quali saranno le attività che si svolgeranno nel 2015. Allora Cristina, abbiamo detto 150 milioni di euro per l'attività complessiva ma per quanto ti riguarda, per quanto riguarda l'area dell'arte e cultura che cosa avete pensato di fare quest'anno? Partiamo da qualche dato. Certo, intanto buone notizie appunto per il settore, come settore chiaramente in difficoltà in questo momento storico perché la Fondazione mette a disposizione 30 milioni di euro quest'anno soprattutto sugli strumenti strategici. quindi finanziamenti dedicati ai bandi e ai progetti e agli interventi e ai contributi istituzionali. Peraltro però c'è anche da sottolineare il fatto che un ulteriore aiuto viene dato da parte della Fondazione a questo settore anche attraverso appunto gli strumenti non prettamente strategici ma come i fondi emblematici, territoriali, patrocini e questo aiuto è in media ogni anno di altri 15 milioni. Quindi il supporto che la Fondazione Carico lo dà a tutti i nostri interlocutori che lavorano nel settore dell'arte e cultura è quasi di 45 milioni. Ecco allora, Cristina ha spiegato alcuni dettagli, ovviamente è una macchina complessa la Fondazione, questo vuol dire che dai budget iniziali che sono specificatamente allocati sull'attività arte e cultura poi durante l'anno a seconda dei progetti che arrivano a Fondazione Carico ci sono questi altri fondi che vengono in qualche modo dedicati ad attività coerente connesse all'arte e la cultura. Quindi questo è lo scenario dal punto di vista dei numeri, lo diciamo sempre con crudenza, il che non vuol dire che non si sia in difficoltà, un contesto molto complesso però è una buona notizia quello che per quest'anno si riesce ancora a mantenere questa attività. Nello specifico però si dedicherà questa attività ad alcune linee guida, alcune tematiche fondamentali. Sì, infatti c'è da dire che è importante soprattutto il lavoro strategico della Fondazione, quindi non è solo l'attività erogativa ma anche il pensiero strategico all'interno del settore e c'è una commissione, una commissione arte e cultura che in collaborazione con gli uffici ogni anno individua quindi delle linee, degli obiettivi chiari e specifici all'interno di questo settore. Per quest'anno le linee strategiche sono principalmente quattro, ci dedicheremo quindi a questi temi. Il primo tema è quello del patrimonio culturale per lo sviluppo, il tentativo in questo ambito di intervento è di considerare la cultura come uno strumento per lo sviluppo culturale, sociale e in parte anche economico delle nostre comunità di riferimento. All'interno di questa linea è stato portato avanti nel passato tanto il progetto degli istituti culturali e tanti altri bambini che vanno in questa logica. Il secondo tema è quello del capacity building e l'internazionalizzazione delle nostre organizzazioni e organizzazioni che come dicevamo fanno fatica, devono essere rafforzate e quindi in questo ambito di intervento la fondazione segue le organizzazioni in un percorso di miglioramento organizzativo e gestionale per rendere più forti e capaci di affrontare il momento di crisi. Il terzo tema molto importante è quello dell'innovazione culturale, tema trasversale per la fondazione è quello dell'innovazione. Innovazione culturale è impresa culturale giovanile, cioè sosteniamo i giovani e le nuove idee a svilupparsi all'interno di questo ambito di intervento che è il settore arte e cultura e quindi aiutando a trovare un percorso di crescita e di posizionamento sul mercato per quanto riguarda le imprese culturali giovanisi. In ultimo il tema della partecipazione culturale e della cultura sociale, cioè la cultura anche come elemento di coesione sociale aiutando quindi le istituzioni a rendere più partecipati e più coinvolgenti i processi di fruizione e di produzione culturale quindi stimolare le organizzazioni e le istituzioni culturali a diventare luoghi di coesione e di sviluppo di un pensiero sociale e culturale dei territori. La comunità che si muove intorno ai temi culturali è sempre molto vivace, ci seguono sempre con grande attenzione numeri veramente importanti anche di visite al nostro sito, partecipazione agli eventi quindi noi faremo di tutto per tenervi informati.